Signore e signori, buonasera. Si conclude questa quarta edizione del concorso musicale europeo Città di Filadelfia a premio speciale Paolo Serrao. Grazie al linguaggio universale della musica, l'associazione Melody si è fatta promotrice anche quest'anno di una cultura di pace, operazione internazionale e di integrazione, anche al fine di contribuire al superamento delle barriere esistenti tra i popoli. Grazie alla musica è stato possibile far seguire alle parole i fatti e in un contesto particolarmente difficile riproporsi per il futuro e confermare un evento culturale ai massimi livelli. La riuscita di questo concorso la si deve anche quest'anno ai partecipanti che in questo auditorium ci hanno regalato momenti dimenticabili attraverso le loro eccellenti performance musicali. L'associazione Melody ricutase dunque gli oltrabili musicisti che anche attraverso i loro sguardi e i loro sorrisi hanno portato più a Filadelfia un po' del loro paese e della loro cultura. Grazie quindi a loro. E' doveroso ricordare quindi per tutte le nazioni partecipanti Norvegia, Ucraina, Lettonia, Indonesia, Nuova Zelanda, Russia, Spagna, Turchia, Polonia, Taiwan, Thailandia, Giappone, Corea del Sud, Uzbekistan, Iran e Italia naturalmente. Auguriamo a tutti i partecipanti di raggiungere per il successo che senza promettano. Grazie. Passo la parola. Ladies and gentlemen, good evening. This concludes the fourth edition of the European Musical City Philadelphia Special Prize Paolo Sardà. Thanks to the universal language of music, the association melody has promoted this year to a culture of peace, international cooperation and even integration in order to help overcome the barriers between nations. Thanks to the music, it was possible to follow words with deeds and in an environment which is difficult to occur in the future and confirm a cultural event at the highest levels. The success of this competition goes to the participants in the auditorium that gave us some unforgettable moments through the excellent musical performances. The association melody therefore thanks the over 1,000 musicians who through their eyes and their smiles brought here in Philadelphia a little of their country and their culture. It is imperative for us to remember all the participating countries. Norway, Ukraine, Latvia, Indonesia, New Zealand, Russia, Spain, Turkey, Poland, Taiwan, Thailand, Spain, Japan, South Korea, Uzbekistan, Iran, Italy. We wish that all participants achieve the success they are in vain undoubtedly deserved. Thank you.